L'obiettivo è rifondare, ma non sarà facile. I nodi allenatore e DS saranno sciolti entro i prossimi 7-10 giorni. La squadra nel frattempo proseguirà gli allenamenti anche la prossima settimana, quindi il rompete le righe. Memushai ha rinunciato ad una mensilità, quella di giugno. Il presidente Sebastiani ha commentato così un bel gesto. Il centrocampista albanese è legato al club da altri due anni di contratto. Potrebbe restare, ma non è scontato, così come i vari Fiorillo, Valdifiori, Galano, Busellato e Scognamiglio. Tutti punti interrogativi. La società si augura di snedire il più possibile i ranghi. Non sarà facilissimo. Grassadonia sarebbe contento di continuare il suo lavoro. Il presidente Sebastiani ha manifestato più volte la stima nei confronti del tecnico di Salerno, ma nulla è stato deciso. Sono giornate di riflessioni. Fondamentale però ripartire con idee chiare. È l'unica cosa che conta.